Ha scritto Galli della loggia sul Corriere della Sera. La destra italiana del ventunesimo secolo si divide tra il populismo arrabbiato della Lega e il vaporoso liberalismo di Forza Italia. Ma è capace di precisarsi in qualcosa di più consistente. Poi c'è Fratelli d'Italia. Non credo che lo si possa più considerare un partito neofascista. Pur se esso viene da territori della storia che portano quel nome. Al massimo la sua lontana origine si manifesta oggi in una postura difensiva contro le smargiassate dell'antifascismo di professione. Quanto invece al suo rispetto delle regole della democrazia fissate dalla Costituzione, mi sembra che non possano esserci dubbi. Un endorsement in piena regola del partito di Giorgia Meloni pubblicato. Questo conta. Sulla prima pagina del principale quotidiano italiano. Ignoro se anche per diffusione. Ma in ogni caso per convenzione. Quella di arrivare un minuto prima degli altri a scoprire qualsiasi parvenza di nuovo che stia emergendo. Per metterci sopra il proprio cappello è una vera e propria mania di una parte dell'intelligenza nostrana. Di quella che si è assicurata uno spazio sui media. Galli della loggia lo ha fatto non senza una certa astuzia. Scegliere di «sdoganare». La Meloni significa in ogni caso non dispiacere al Nazareno che seguita a vedere come il fumo negli occhi la lega di Matteo Salvini e dunque non sarà particolarmente dispiaciuto della crescita dei consensi per i fratelli d'Italia. Astuto e reso prudente dall'esperienza. Lo storico e accademico, pur dopo aver argomentato estesamente sul potenziale consolidamento di una destra moderna, quella di cui da numerosi decenni si lamenta l'assenza in modo ricorrente, a guida Fratelli d'Italia, conclude definendo il proprio intervento una «escursione nei territori dell'utopia». Non si sa mai. Grazie per la visione!